Presidente Conte cercherò in questi pochi minuti di offrirle il punto di vista di Fratelli d'Italia su come a nostro avviso andrebbe portata avanti la trattativa al Consiglio europeo e mi auguro sinceramente che lei voglia ascoltare senza pregiudizi perché quello che lei si trova a maneggiare per un capriccio della storia è il destino dell'Italia e per quota parte del destino dell'Europa e questo richiede una grande responsabilità se prova a guardarsi indietro scoprirà che molto spesso abbiamo provato in questa fase a darle buoni consigli. Sostenevamo che l'Europa dovesse stanziare per l'emergenza Covid almeno mille miliardi di euro quando molti in quest'Aula la ringraziavano per aver concesso miseri 200 milioni. Invocavamo un intervento della Banca Centrale Europea perché la Banca Centrale Europea comprasse illimitatamente titoli di Stato come stavano facendo le banche centrali di tutto il mondo quando molti in quest'Aula si sbracciavano per difendere Cristina Lagarda derubricando a GAF quella uscita tragica con la quale aveva fatto tracollare la Borsa italiana. Avevamo ragione. Abbiamo avuto ragione diverse volte perché abbiamo il pregio di raccontare le cose per quello che sono non per quello che vorremmo fossero. E allora vede devo dirle che io non sono d'accordo con la sua lettura di questa mattina. Io penso che se noi volessimo dire la verità a noi stessi e agli italiani allora dovremmo riconoscere che gli aiuti europei sono in alto mare. Perché questo dicono i fatti. Che i fondi della BEI non sono partiti, che il programma SHUR non è partito, che il recovery fund è stato fortemente ridimensionato nelle cifre, che le risorse non cominceranno ad arrivare prima del 2021 inoltrato e soprattutto che noi per spendere quelle risorse alla fine dovremo ancora una volta chiedere il permesso alla Germania. Perché nella proposta che le verrà sottoposta venerdì si dice che i governi europei dovranno dare il via libera alle riforme italiane a maggioranza qualificata. E poiché i paesi frugali sono troppo piccoli per avere una maggioranza qualcuno in quest'aula riesce a immaginare quale sarà il grande paese con il quale alla fine si alleheranno. E allora voglio dire chapeau Frau Merkel. La Germania ha nelle ultime settimane svestito i panni del poliziotto cattivo, ha fatto fare il lavoro sporco ai paesi frugali e adesso si riprende in mano il boccino del controllo del nostro destino come fa dal 2011 ad oggi. E io non posso dire niente a Frau Merkel, complimenti a Frau Merkel. La domanda è perché voi l'avete capito? Cioè è chiaro questo fatto, questo elemento? E soprattutto voi intendete alimentare questa, chiedo scusa, approvare questa follia che è la madre di tutte le condizionalità? Oppure no e abbiamo una volta tanto un sussulto di dignità? Perché altrimenti Presidente Conte mi dispiace ma rischiamo che il recovery fund non sia molto diverso dal MES. E sul MES io non ho cambiato idea, probabilmente lo farà lei. Vedremo se oggi lo farà il Movimento 5 Stelle, il collega Maggi ha presentato una mozione molto chiara, il pregio della chiarezza, che chiede chiaramente che l'Italia acceda al Fondo Salva Stati, Fratelli d'Italia annuncia il proprio voto contrario alla risoluzione del collega Maggi, vedremo cosa farà la maggioranza, vedremo cosa farà il Movimento 5 Stelle anche qui, scusate. Diceva la collega Colaninno senza pregiudizi, senza pregiudizi vi chiedo, vi siete chiesti perché i paesi frugali considerano l'accesso italiano al MES una condizio sine qua non per qualunque altra trattativa. Cioè se questo MES è così vantaggioso per noi, di grazia, perché è diventato un ricatto? È diventato un ricatto banalmente perché il Fondo Salva Stati è un atto di sottomissione, perché le condizionalità ci sono e come, perché le lettere di Gentiloni non modificano i trattati e non modificano i regolamenti. E noi dovremmo consegnare le chiavi di casa nostra per risparmiare massimo forse 500 milioni di euro l'anno di interessi sul debito su una spesa complessiva di 900 miliardi di euro l'anno? Ma stai scherzando? Volete risparmiare 500 milioni e togliete il bonus monopattino? Togliete il bonus per i 500 euro ai 18 anni? Avete già risparmiato 500 milioni? Il gioco non vale la candela, scusate. E il punto è questo, Presidente Conte. La questione del MES non è una questione economica, non c'è nessuna regione economica per accedere al MES, la ragione è politica. Il MES serve ai nostri interlocutori perché attiva un processo di controllo dei nostri conti pubblici e avvalora questa bizzarra tesi in forza della quale l'Italia avrebbe bisogno degli aiuti degli altri stati europei. Il MES è uno degli elementi con cui si decide l'assetto futuro degli equilibri europei. Io penso che la questione sia proprio questo, il gioco dei nostri interlocutori è dipingerci come degli irresponsabili fannulloni governati da degli incapaci. E questo non è vero, almeno per gli irresponsabili fannulloni, per il governo di incapaci, diciamo, delle volte diventa un po' difficile difendersi. E guardi, mi consenta, anche questa vicenda degli Stati Generali, se posso permettermi, Presidente Conte, ma come le è venuto in mente? Cioè lei ha convocato i vertici delle istituzioni europee e delle istituzioni finanziarie per dire chiaramente a tutti che non aveva uno straccio di idea su come far ripartire l'Italia, ovvero non aveva uno straccio di idea su come spendere le risorse che sta chiedendo a questi mondi. Però non vi preoccupate che adesso chiediamo qualche buona idea a Fuxas e a Elisa. Ma dico, ma si rende conto del danno? Si rende conto del danno? E in effetti, diciamo, buone idee non è che ce ne fossero, se avessero avuto buone idee probabilmente non sarebbero stati dilapidati 80 miliardi di euro in marchette, bonus, consulenze e assunzioni facili. Perché guardi, anche questo, anche questo modo irresponsabile di spendere i soldi non aiuta nella trattativa europea. Qui veramente spezzo una lancia io in favore dei paesi del nord, perché guardi che non c'è neanche bisogno di essere tedesco per pensare che se mentre il 40% delle tue aziende chiude tu stai comprando i monopattini non ti meriti niente. Non è che serve essere tedeschi, ci arrivo anche io, che sono italianissimo. Allora, vede, però, e questo è il punto, nonostante tutto questo, io penso che noi dobbiamo capire una cosa fondamentale. La realtà dell'Italia e la realtà dell'Europa è distante anni luce da quella vignetta olandese che ritrae gli italiani a prendere il sole mentre nei paesi del nord lavorano. La realtà dell'Italia e dell'Europa è l'esatto contrario. La realtà dell'Italia e dell'Europa è che noi ogni anno produciamo una ricchezza che viene aggredita, depredata, aggirata e rubata dall'Unione Europea. Questi sono i fatti. E se noi non capiamo questo non possiamo vincere nessuna trattativa. I paradisi fiscali come l'Olanda e il Lussemburgo drenano miliardi di tasse ogni anno su una ricchezza che viene prodotta qui. Il dumping salariale dei paesi dell'Est che produce concorrenza sleale e delocalizzazione a danno dei nostri lavoratori. E poi gli accordi commerciali che sistematicamente penalizzano l'Italia per colprire produzioni d'eccellenza che gli altri altrimenti non sarebbero in grado di eguagliare. La vigilanza bancaria così attenta sulle banche italiane esposte ai crediti deteriorati ma guarda un po' molto distratta sulle banche tedesche cariche di titoli tossici e di derivati. Le iniziative predatorie della Francia contro le nostre aziende, i nostri marchi, le nostre infrastrutture strategiche, quello che per generazioni gli italiani hanno costruito con genio e sacrificio. E su tutto una moneta unica che favorisce la Germania e penalizza l'Italia. Non lo dico io, eh. Lo dicono gli studi tedeschi. Lo dicono gli studi dei tedeschi. Allora vede Presidente Conte, noi non abbiamo nulla di cui scusarci e non abbiamo nulla di cui dire grazie. Noi dobbiamo uscire dall'angolo di questo racconto. Dobbiamo uscire dall'angolo e dobbiamo essere consapevoli del fatto che i nostri interlocutori puntano a metterci sulla difensiva ma tutti sanno che quando l'Italia dovesse alzare la testa la ricreazione sarebbe finita perché senza Italia non c'è Europa, non c'è Euro e non ci sono i privilegi che queste nazioni hanno costruito sulla nostra pelle. Esca dall'angolo, giochi in attacco, chieda conto dei temi che ho posto e dei tanti altri che si potrebbero porre. Chieda un riassetto complessivo. Provi a immaginare all'Europa non come il luogo nel quale cinicamente farsi dare quella investitura che gli italiani non le hanno dato mai, ma come il luogo nel quale lei può finalmente essere all'altezza del grande popolo che rappresenta. Questo ci piacerebbe che facesse al Consiglio europeo. E però Presidente Conte, forse non è lei che lo può fare. Perché vede, le grandi imprese sono figlie di grandi visioni, non di maggioranza raccoglitice tenuta insieme da sentimenti mediocre come l'attaccamento all'auto blu. E i grandi statisti si forgiano nel consenso popolare, non nei giochi di palazzo con i quali chi l'ha messa lì già appunto a sostituirla. Però io confido nel fatto che cambierà presto anche questo e che arriverà presto il giorno in cui gli italiani potranno finalmente eleggere un governo degno di questo nome. E se saremo noi quel governo, beh allora costruiremo un'Italia forte in una Europa giusta, contro quei nani politici così presi a contare gli spiccioli da non rendersi conto che stanno devastando il sogno europeo.